Il Premier Mario Draghi è stato in visita questa mattina a Genova nella prima visita istituzionale dopo l'elezione del Capo dello Stato. Ha incontrato a Palazzo San Giorgio al Porto Antico il Sindaco Marco Bucci, il Presidente di Regione Giovanni Toti e il Presidente dell'Autorità Portuale Signorini. Dopo l'incontro si è recato in via Fillac alla Radura della Memoria dove incontrerà i parenti delle vittime del Ponte Morandi e in mattinata è atteso al terzo valico di Trasta dove prenderà visione dell'avanzamento dei lavori.